Tutte le infrastrutture delle Marche accessibili e consultabili sul proprio smartphone. Questo sarà possibile grazie a Geomarche 2032, un'applicazione multimediale all'avanguardia predisposta dall'assessorato alle infrastrutture della Regione Marche che ha l'obiettivo di abbattere i tempi burocratici per cittadini, professionisti, amministrazioni pubbliche e imprese. La trasparenza, chiarezza, capacità di informazione e coinvolgimento perché grandi infrastrutture presuppongono anche la compartecipazione dell'opinione pubblica e la consapevolezza di quello che si sta realizzando nella nostra Regione. Oggi che ci sono tante opportunità e ci saranno fra poco veramente tanti cantieri è giusto che la comunità sia consapevole e partecipi attivamente insieme agli enti locali a questo processo di rinnovamento e anche di potenziamento del nostro territorio. È uno strumento di democrazia digitale che porta sul telefonino di ogni cittadino marchigiano il piano strategico dell'infrastruttura Marche 2032. Quindi è uno strumento molto potente da un punto di vista comunicativo perché tutti i cittadini marchigiani sanno e sapranno quello che è accaduto e sta accadendo nelle Marche. Oltre 1270 cantieri che possono essere monitorati sia quelli realizzati direttamente dalla Regione che quelli realizzati dagli enti locali, province e comuni con partecipazione e contributo diretto della Regione e nonché altri interventi finanziati da grandi società di Stato, pensiamo a Ferrovia o ad Anas. E poi è uno strumento particolarmente utile per tutti i comuni dal nord al sud della Regione per le professioni, penso all'ordine degli archidetti, ai nostri geometri, all'ordine degli ingegneri perché trovano una cartografia dettagliata di tutta la nostra Regione sulla quale potranno lavorare. Geomarche 2032 è disponibile in due versioni, una informativa per tutti i cittadini e una per i professionisti e addetti ai lavori. Vi si accede dal sito ufficiale della Regione Marche, settore infrastrutture.